Il Codacons ha presentato un'esposta alla Procura della Repubblica di Roma e alle Procure di Siena, Rezzo, Ferrara, Ancona, Chieti, Vicenza e Treviso, in cui si chiede di acquisire i nomi dei soggetti insolventi nei confronti degli istituti di credito ubicati sul territorio di competenza e procedere nei loro confronti per il reato di concorso in bancarotta fraudolenta. La notizia arriva nella giornata in cui la Camera dei Deputati ha approvato in maniera bipartisan le mozioni che prevedono l'istituzione di una commissione di inchiesta sulle banche. Un organismo che farà chiarezza sulle crisi bancarie e sulle vicende che hanno portato al salvataggio pubblico di MPS e che potrebbe portare alla pubblicazione degli elenchi dei grandi debitori insolventi delle banche oggetto di salvataggi. Elenchi anticipati oggi dal Sole 24 Ore, tra i quali per esempio figura anche nel capitolo dedicato alle partecipate pubbliche le bonifiche di Arezzo. Altro soggetto che interessa il territorio aretino e inserito nell'elenco del Sole 24 Ore c'è anche Unieco. La cooperativa emiliana detiene lo 0,1% di Sei Toscana ed è tra i soggetti fondatori dell'Associazione Temporanea d'Impresa che si è aggiudicata il bando per la gestione dei rifiuti nelle province di Arezzo, Siena e Grosseto. Oggi però era anche la giornata nella quale il Consiglio di gestione e sorveglianza di UbiBanca si riuneva per formalizzare l'offerta di acquisto per Banca Etruria, Banca Marche e Cassa di Risparmio di Chieti. L'istituto guidato da Victor Messia, come già anticipato nei giorni scorsi, pagherà un prezzo simbolico per rilevare tre delle quattro Good Bank in risoluzione. In vista della cessione intanto, il presidente di Nuova Banca Etruria, Roberto Nicastro, domani sarà ad Arezzo per il Consiglio di Amministrazione dove con ogni probabilità verrà deliberata la cessione di una buona parte dei nuovi crediti deteriorati al fondo Atlante. Una operazione per ripulire così i bilanci e permettere l'acquisto da parte di Ubi.